Preparare la ricostruzione. Reggio, Calabria, mezzogiorno e crisi economica. Questo è il tema che è chiamato a sviscerare alle 17.30 di lunedì prossimo alla Sala Nicolás Green di Palazzo Campanella, il presidente del Copasir, l'organismo parlamentare che sovrintende i servizi segreti, Massimo D'Alema. L'ex premier, in passato protagonista di rari quanto epici comizi pubblici a Reggio. Manca dal nostro territorio relativamente da poco. Il 25 maggio scorso, alle ultime battute della campagna elettorale per le amministrative, D'Alema animò un incontro stampa allargato a sostegno delle candidature di Pino Morabito, alla guida della provincia e Massimo Canale, al sindaco della città. Il 16 in realtà le iniziative pubbliche di D'Alema saranno due. Quella di Matrice Democrat si svolgerà appunto al Palazzo del Consiglio regionale e risulterà di certo pure un momento di ripartenza per truppe e dirigenti PD, come si ricorderà, ancora in attesa del nuovo commissario dopo l'abbandono di Adriano Musi e soprattutto delle date per i congressi. Prima, alle 15.30 all'aula magna della Facoltà d'Architettura della Mediterranea, il Big del PD, su iniziativa di Us Reginum e RUN, sarà intervistato da Chiara Geloni su un tema intrigante, nuovi media e comunicazione politica, le nuove generazioni al governo del Paese, le nuove sfide dell'Italia in Europa. A chiusura del corso, informazione online, prospettive e problemi.